Carissimi, questo è un messaggio rivolto ai biologi nutrizionisti, perché un master in PNEI di primo livello per un biologo nutrizionista? È essenziale comprendere che tutte le tematiche della nutrizione, dell'obesità, del sovrappeso vengono opportunamente trattate e risolte soltanto in una cornice PNEI. Sappiamo che la dieta è davvero uno strumento terapeutico molto limitato e che c'è sempre di più bisogno di conoscere la fisiopatologia della matrice connettivale e di affiancare al trattamento nutrizionale le tecniche più avanzate e scientifiche di gestione dello stress e anche l'uso sapiente, logico, razionale degli integratori più indicati per quel paziente, oltre naturalmente all'attività fisica e l'attenzione all'ambiente nel quale viviamo, in primis la qualità dell'aria e dell'acqua. Bene, tutto questo nel nostro Master in PNEI di primo livello, dove ci saranno sessioni dedicate proprio a voi, biologi nutrizionisti, che avete deciso di distinguervi dai vostri colleghi e di offrire ai vostri pazienti una consulenza straordinaria, innovativa, incentrata sulla misurazione dell'infiammazione cellulare silenziosa e soprattutto su un quadro di integrazione completo e quindi un qualcosa di veramente nuovo, scientifico e risolutivo. Vi aspetto, ti aspetto e spero di avere il piacere di incontrarti presto nel nostro prossimo Master in PNEI livello base, residenziale e online. A presto!